Hello! Buonasera, cioè buongiorno, buonasera, insomma, ma che... Perché sei così triste? Che cosa è successo, scusa? Perché ora ti porterò in un posto. Ok, ah, bene, così, ok. Io stavo andando a pescare salmoni e tu mi porti in un posto random. Vabbè, dai. Non è un posto random. Arrivo. Ma stiamo correndo, ma che fretta c'è? Vieni, è importante. Ok, arrivo, arrivo. Oh, qua c'è uno dei tuoi cani, ma scusa, tu non ne avevi tipo... Oh, ah... Sono morti! Ma questo... Ma questo sarà mica il cratere di un uovo bomba, quindi. Oh, sì. Ma questi sono gli occhi dei cani? Cioè, ho fatto tipo una testa di cane con gli occhietti. Un monito per Enzombi. Per cane 1 e per cane 2. Ah, aspetta, se vuoi scrivere qualcosa ti posso regalare questo cartello, se vuoi. Aspetta. Oh, mi dispiace. Oh, ma che figata, se lo metti per terra fa tipo treppiede. Ah, è vero, sì, sembra un naso con le... Come le zanne davanti, cosa sono? Sì. O i baffetti. Oh, i baffetti. Ma che cazzo. I can't unsee now. What? Ma certo che è persino più bellina la tomba che hai fatto tu, che sti cani sono sempre tristi qua, poveretti. Fatto. Rip cane 1. Ma eravate bruttini. Ma non gli avevi neanche dato un nome ancora, è vero. No, perché erano tre cani, cioè loro non avevano un nome, erano un'entità unica. Era una muta di cani che aveva un nome. Dog squad. Mi dispiace così tanto che... Guarda, adesso spero di trovare qualcosa di bello da regalarti dentro questo vasetto. Oh, un seme di zucca. Dai. Lo vuoi? Per la mia zucca vuota. Ma come... Ah, perché dici così che c'è la zucca dentro la zucca vuota? Fallo sedere un po'. Ma che prega, l'hai spinto dentro al buco proprio, ma poveretto. Dai, non lasciarlo qui. Resta lì che è meglio. Va bene. Comunque... Solo perché è l'ultimo che mi è rimasto. Comunque se te la senti per riprenderci potremmo con i salmoni, non so se... Hai dei salmoni anche tu, giusto? Sì. Ok. Potremmo prendere gli orsi polari e con la sella che dovremmo avere... Ma no, io ce l'ho a casa però la sella mi... No, ce l'ho, ce l'ho. Io ce l'ho qua. Ce l'ho qua. Ok, ognuno si prende un orso polare. E poi torniamo a casa, quella vera. Ok? Sì. E cercando di non far morire anche l'altro cane. Ok, la missione è incominciata. Tu ti ricordi più o meno dove erano gli orsi polari? Di là, di là. Io arrivando qua ne ho visto uno. Di qua c'era un gruppo enorme, c'è anche pieno di esperienza. Oh, c'è anche pieno... Oltre che di esperienza c'è anche pieno di vasetti. Ma... Oh, guarda i pinguini, allora non sono morti tutti. Qualcuno è ancora vivo. Ecco un orso polare mio, quello. Che è successo agli altri pinguini? Eh, guarda, li mangia l'orso polare. Guarda, lo sta mangiando. Miam, miam. Guarda i salmoni, altri salmoni per terra. Guarda quanti. Vai, prendili, prendili che tanto serviranno. Allora, io provo col mio, eh. Ma se li sta mangiando tutti. Ah, tu l'hai già trovato. Guarda quanti ne mangia. Io ho trovato uno dall'altra parte opposta del tuo. Ciao, io ti vedo. Sono dietro di te. Ciao, ciao, ciao orso. Sta fallendo finora. Mamma mia, gli hanno già dati quasi metà e sta fallendo. Preso! L'ho preso! Aspetta che gli metto la sella. Gliel'ho messa! Oddio, sono sull'orso! Cioè, sta arrivando. Sull'orso. Oddio, no, Shift non va più veloce. Abbiamo gli orsi! Abbiamo gli orsi! Attaccano. Vediamo se attaccano. Eh, ma come facciamo? Pinguino! No, no, povero pinguino, no, dai. Dai, no, non credo. Non lo mangia. A meno che magari scendi... Se gli dai una botta tu, forse? No. Aspetta, possiamo saltare anche? Guarda quanto salta in alto. Però con control prima mi ha fatto un attimo... Aspetta, se io gli do un pugno, no? Lui attacca... No. Scusa, pinguino, se ti ho preso la botte. È solo una calcatura. Beh, solo. Figata. Sì. Almeno non dobbiamo andare a piedi. Infatti. Guarda come va. Eh, ma aspetta, dov'è casa? Dov'è casa? Non mi ricordo. Aspetta, M. Ti ho segnato sulla mappa. Eh, no, io non la vedo da qui. Non ce l'ho segnata sulla mappa. Come? Perché io non ce l'ho segnata sulla mappa? Allora, adesso scappiamo in fretta e furia. Ok, sì, sta anche diventando notte. Secondo te ci ricorderemo di questa casetta nei ghiacci, tipo? Probabilmente no. Oh, che triste. Ah, ecco gli alberi rossi. Ora mi ricordo. Vai, è partita la gara. No, sono caduto. Sono caduto nel mio. Però ho schiacciato shift. Il mio orso è molto più veloce del tuo. Ma puoi correre proprio anche con due volte W come quando corri normale? O c'è solo una velocità? Io premo due volte W. No, come si fa la velocità? Cos'è la velocità? Eh, io ho fatto due volte W e sta andando come prima. Non capisco. Il mio va super lento. Eh, mi spiace. Oh, devi trovare la strada giusta qui, eh. Non ti confondere. Oia, occhio agli alberi, occhio agli alberi. L'ultimo che arriva deve fare il verso del pollo. No, sto affogando. No, sto affogando. No. Oddio, oddio, no. Ancora qui, ancora qui. Ok, pensavo stesse affogando. No, vedi? Non salta. Non si può tirar fuori dall'acqua. Non ci credo. Aspetta. Sì, no, ok. Ce l'ho fatta. Come si fa? Eh, devi camminare più o meno. Ce la fai, circa. No. Devi continuare. Perché il tuo ha una faccia brusa? Ha fatto un... No, no. Non portarlo dove l'acqua è più alta. Sta affogando. Non portarlo dove l'acqua è più alta. Portalo dove è più bassa. Salici sopra. Ok, ora vai verso dove c'è la riva. Cerca di spingerlo. Risali e vai verso la riva. Piano piano ce la dovresti fare. Vai ancora. No, il cane è tuo. Il tuo cane sta affogando. Ma perché affogano tutti gli animali in questo gioco? Dai. Perché muoiono tutti gli animali. No. Ti prego, il cane. Oh mio Dio. Dai, tiralo fuori. Anche l'orso prima o poi affogherà, secondo me. Occhio. Dai, non ci credo. No. Cane. No. Anche l'orso, anche l'orso sta prendendo danno. Tiralo fuori, tiralo fuori. Aspetta. Aspetta, provo a venirti a dare una mano. Aspetta, arrivo, arrivo, arrivo. No, no, no. Non può morire anche lui. Non può morire anche lui. Spazio, schiaccia spazio quando sei su di lui. Aspetta, lo sto portando anche io. Aspetta, aspetta. Tieni. No, no, no. Orso. Orso, ti prego. Orso, ti prego. Perché io ce l'ho fatta tirarlo fuori? Dagli da mangiare. Aspetta, gli do da mangiare. Così non muore. Ok, lo sto curando, lo sto curando. Aspetta, l'ho quasi fatta. Quasi fatta. Dai, ti prego, no. No. Lo spingo da dietro. Aspetta, aspetta. Aspetta, l'ho spinto. Ce l'ho fatta, l'ho salvato. Ho salvato. Esci orso. Bella sta gara, eh, comunque. E mio cane. No, dai, era cane tre. Era più brutto degli altri. Verrà ricordato per questo. Verrà ricordato come un'intera. Oddio i mostri. Ci sono anche i mostri adesso. Via, via, via. Ma cacchio, ma la gara vale ancora? No, c'è un coso, no. Cosa? Attenzione, c'è un coso. Qui ha comunque. Ma stiamo andando dalla parte giusta, secondo te? Dì, ho il segno sulla mappa, io. Ah, ok. No, le streghe. No, occhio, non guardare. Non guardare le streghe. Beh, l'idea di tornare a casa in groppa a questi cosi mi sembra proprio... Occhio all'acqua. Occhio all'acqua. Ce l'ho detto, è pieno. Siamo circondati. Qui, 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 qui. C'è il tunnel con una torcia. Vuol dire che ci siamo passati per di qui. Oddio, guarda i tunnel. Sto andando dalla parte giusta, che tu sappia. Visto che tu hai il marker. Cioè, la parte sì è quella. No, no, orso, non di nuovo in acqua. Non ce l'ho proprio voglia oggi. No, 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 dai. Dai, 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 esci fuori. No, 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 aspetta, hai di nuovo in acqua. Rombolo. Ma da che parte stai andando? Io? Io sto andando la parte giusta. Ma come? Ma mi hai detto che era questa la parte giusta. Aspettami. No, mostro no. Che tu volevi fregarmi e farmi andare dalla parte sbagliata e ti sei beccato il mostro. Via, ciao. No, l'acqua. L'acqua no. Eh, hai detto, non si può uscire. Allora, bisogna fare così. Eh, sì, vabbè. E usare il super salto dell'orso. Eh, ho capito, ma si stancherà prima o poi di fare i super salti, sto orso qua, eh. Ce l'ho fatta quasi, 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 quasi. Ok. Ok, ok, sono salito sopra. Occhio ai mostri, eh. Ti faccio un po' di pulizia intanto. Ormai questa, più che gara, è una gara di sopravvivenza. Dobbiamo aiutarci a vicenda. Aspetta, è quella la casa. Attenzionissimo. Non scendi. Occhio. Hai visto quant'acqua? Usiamo gli alberi. Allora, di qua c'è. Vai, io l'acqua l'ho saltata. Aia! Uh, che botta. Aspetta che ti do un po' di pesce. Pesce, curati. Bravo. Bravo il mio orso. E la casa da che parte è? Allora, aspetta un attimo. Ma come? Ci sono gli mostri. Sto impazzendo, scusami. In che senso stai impazzendo? Sto, sto, sto finendo, sto rischiando di finire l'acqua ogni dieci secondi. E quindi... Aspetta, metto il mio orso dentro e arrivo. Sto arrivando, sto arrivando. Ci sono quasi, ci sono quasi. Tra l'altro non posso neanche metterlo dentro l'orso. Non ci passa dalla porta. Ecco, ti vedo. Ti vengo a dare una mano, aspetta. Non mi date fuoco all'orso, dai. Ok, vai, vai, vai. Ma che sfortuna è? Io ero già arrivato, quindi la gara in teoria l'avrei vinta. Non so, l'ho vista. Come si fa adesso ad entrare con l'orso? Em... Em, mostri, 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 mostri. Aia! Vieni qui. Aspetta. Ok. Che cosa devo aspettare? Facciamo il giro da dietro. Dai, facciamo il giro. Sì, si può fare il giro da qui di fianco. L'acqua non è troppo alta. Magari riusciamo ad entrare dal retro. Oppure no, lo metto dentro al garage. Lo metto dentro al garage che ho fatto. Eh, però deve essere ancora più alto, sai? Io ho parcheggiato il mio in garage. Posso dire di stare seduto? Ah no, beh, è una mount, quindi in teoria sta dove la metti. In teoria sì. Ok, adesso gli faccio il buchetto qua per guardarmi. Oh, là. Io ce l'ho in casa. Come hai fatto? Perché io ho vinto. L'ho portato al piano di sopra oltretutto. Come hai fatto? L'ho proprio messo in casa. Sono passata dal teto. Ho fatto il teto di qua e l'ho messo nel suo giardino. Scusa, ma ti sembra il posto giusto per mettere un orso polare? Ma non sarà mica meglio tenerlo in garage come tutti gli automezzi? Mangia. Ma non mi ignori e gli dici mangia. Oh, guarda un mostro. Cos'è questo? Perché c'è un mostro qui? Perché in casa? Eh, è arrivato da qui perché c'è buio. Bata, sei inutile. Jay, hai una torcia da mettere sulla tua terrazza qua fuori che è molto buia ed è entrato da qui? No, non ce l'ho. Guardiamo se ce l'ho tipo dentro le mie ceste personali. Non credo. Quelle alle quali tu non potrai mai accedere noi in realtà. Come? Io posso guardare tutto. No, non ce l'ho, non ce l'ho. Oh, prima o poi lo troverò, è il tuo diario segreto ad ogni modo. Sì, sì. Tanto non te lo dico che cosa c'è scritto. Ma come? Scusa, io so leggere. Come fa? Perché ho bisogno che tu mi dica cosa c'è scritto? No, non sai leggere. Ma cosa dici? Ma perché dici queste bugie? Io dico quello che vuoi. Senti, orse o rasti lì, eh? Ma stai sempre parlando con i tuoi animali? Sì, lo faccio sempre. Loro mi capiscono. Come i serpenti in arrivo. Loro mi capiscono. Certo. Ci sono dei polli che sono nel recinto dei maiali. Poi ci sono dei polli che sono nel recinto delle pecore. E poi ci sono 200 milioni di polli. Aspetta. No, no, no. Scendi, scendi, scendi. Perché ci sono polli ovunque? Sono molto socievoli questi polli. Ma hai visto quante uova? Eh, sì. Però non le posso prendere perché ho l'inventario pieno. Tu invece? Faccio io. No, stanno scappando. È scappato un pollo. Perché? Ah, neanche tu guarda. Potrei come non potrei aver ucciso un pollo. Ma questo non sta a te deciderlo. Ok, allora farò finta che non è mai successo. Che cosa? Cosa? Il mio orse è parcheggiato. L'hai visto un uovo bomba? È un uovo bomba vicino ai recinti. No, non lo vedo. Oh, cacchio. Eh, non recinto anche lui. È il suo recinto personale. Aspetta, uso la skill. Non ha contato niente, non l'ho colpito. Aspetta, ma è tranquillo. Non gli fa... Beh? Che è sta storia? Ma perché a me le uova bomba non fanno mai così? Perché le mie ammazzano i cani? Eh, perché le tue sono molto, molto più preparate ormai. Ad ogni modo, guarda il sedere. Il cane. Non è un cane. Basta con i cani. Oh, comunque, come abbiamo il pollice verde noi? Nessuno, eh? Ma guarda qui quante belle piani. Al proposito, ho l'erba morta. Si può usare? La pianto qua. L'ho messa qui. L'unica cosa che crescerà in giardino. Siamo sicuri che non crescerà più niente, proprio così. Ma in questa cassa c'è un piccone di diamante? Eh, sì, ce l'ho messo io, credo. Ma cosa ci fa un piccone vicino? Eh, serve per quando devi fare i buchi per piantare gli alberi, dai. Comunque c'è da dire una cosa. Allora, questi bambù, più le torce, più quello, sembra che stanno in un hangar. Ma più che, esatto, tipo la pezza d'atterraggio. Esatto, esatto, esatto. Ebbè, per se... Per se faceva il mio cane prima di morire? Eh. Ma... Scusa, ma è venuta da starnutire. Ma mi stai tirando uova di... No, erano le uova dei pinguini quelle. Sì, ho provato a schiuderle. Dove fanno usarli per farle ripi... Eh, sì, addosso a me le hai provate a schiudere. Adesso so solo che ho voglia di farmi una doccia e non abbiamo neanche una in questa casa. Lo vuoi un pinguino in casa? Mmm, provaci. No, no, ma... Oh, l'hai detto! L'hai detto! Eh, ma perché queste qua sono le uova che ho vinto farmando come una disgraziata al giardino. Ah, ok. Adesso abbiamo un pinguino che si è a casa. Oh, cacchio. Non lasciamo... Ma basta, pinguini! Adesso avremo i rimorsi per sempre. Prima il tuo orso se ne hai mangiato i 20 e il mio 15. Ma non ha senso, sono i fantasmi di pinguini che... Oh, guarda. Attraverso il soffitto! Hanno già deposto un uovo. Vediamo se... No, non ho avuto fortuna. L'ho un po' spiaccicata. Voi, pinguini, non avete visto niente? Vabbè, stanno guardando tutti il muro. Sai che secondo me non stanno proprio bene. Guardano tutti fuori. Non vogliono stare qui. Vuoi uscire? Prova. Dai, apriamogli le porte se escono. No. No, no. Come il mio gatto. Non escono, mi piace qui. Il mio gatto gli aprivi la porta e non voleva uscire. In due, dai, no! Ne abbiamo già persi due. Ce ne sono... Questi due teniamoli perché li dobbiamo far riprodurre in qualche modo. Avremo casa piena di pinguini. Oddio! C'era un pulcino. È un pinguino pulcino. Ma è un... È un pulcino che si era bagato e adesso è bagato nel muro. Non si sposta. Volevo dare di un amico. Sul picco. Ah, ma sono uova-uova allora queste. Sì, sì, queste sono le uova. Ma quanti animali abbiamo in casa adesso? Basta. C'è un pinguino che sta andando a fare il minatore. Guarda, il pinguino minatore. Vai, vai pure. Vai, vai. È il mio orso. È andato a trovare l'orso? Ma è stupido! Guarda! Vieni a vedere, oddio, se l'orso se lo mangia. Vediamo. E noi diventano amici. Però basta. Dai, loro possono entrare e uscire quando vogliono e l'orso può solo guardare. Comunque stavi dicendo, hai presente? presente Wallace e Gromit che ci sono i pinguini cattivi oddio no se mi ammazza l'orso per vendicarsi di tutti quelli che ha mangiato io direi che per questo episodio non ho parole per definire ma smetti di picchiare animali ma voglio togliere i polli ma come li puoi togliere magari viene fuori una nuova razza ma guarda quelle pecore era una tattica che gli hanno insegnato i polli comunque ragazzi io vi ricordo di lasciare un bel mi piace in questo momento seguite Jay su Instagram dal link in descrizione no la peccora hai fatto scappare la peccora basta animali che scappano non sono pronto io direi che anche per questo video esatto non sono pronto che se ne vadano direi che per questo video hai picchiato il maiale e non il pollo che è qui nell'angolo comunque vabbè se non siete ancora iscritti fatelo adesso e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao ciao con le cosce dei morti polli dei morti polli anch'io c'ho una coscia di morto pollo tieni tieni